E' stato lasciato davanti al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Bari, ferito al volto e alle gambe con colpi di pistola. L'uomo, un pregiudicato barese, ritenuto affiliato al clan mafioso Strisciuglio, sul caso indagano i carabinieri. Entra nel vivo la campagna elettorale incapitanata nella batte in vista delle politiche di settembre. Damiani è la notte a barletta nelle liste di Forza Italia, mentre a sorpresa nelle fila di Fratelli d'Italia a Foggia spunta il nome della giornalista bolognese Eugenia Rocella. Torna a Putignano il Karlorf Music Festival, sei concerti in programma, si parte con l'omaggio a Ennio Morricone. E ben ritrovati a tutti con informazione di Antenna Sud, come dicevamo pagina dedicata alle province di Bari, Labatt e Foggia. Lo avete sentito nei titoli, apriamo con la cronaca da Bari. Un pregiudicato di 45 anni, ritenuto affiliato al clan mafioso Strisciuglio, è stato lasciato la scorsa notte davanti al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Bari con segni di percosse su varie parti del corpo, anche sul volto e ferite di arma da fuoco agli arti inferiori. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe stato portato da un'auto guidata da persone che subito dopo si sarebbero allontanate sulla vicenda. Ora indagano i carabinieri coordinati dalla DDA di Bari. Continuiamo sempre con la cronaca, ma ci spostiamo a Foggia. Tentato omicidio al boss, resta in carcere l'imprenditore Antonello Francavilla. Resta in carcere Antonio Fratianni, imprenditore edile foggiano di 56 anni, fermato il 2 agosto scorso al confine con Trieste perché accusato del duplice tentato omicidio del boss della società foggiana Antonello Francavilla e del figlio 15enne di quest'ultimo avvenuto la mattina del 2 marzo scorso nell'abitazione di Nettuno dove il capo mafia stava scontando gli arresti domiciliari per estorsione aggravata. Il GIP del Tribunale di Velletri, competente per territorio, ha accolto la richiesta della DDA di Roma che contesta Fratianni l'aggravante della premeditazione e della mafiosità per due motivi. Il metodo utilizzato è la causale dell'agguato riconducibile a contraste all'interno della mafia foggiana nella quale viene ritenuto orbitante lo stesso Fratianni, considerato una testa di legno asservita agli interessi del clan e collettore di somme di provenienza illecita del sodalizio mafioso. Secondo l'accusa Fratianni la mattina del 2 marzo si recò a casa di Francavilla con il quale si conosce da tempo e quando quest'ultimo si voltò per preparargli un caffè gli sparò sperendolo al petto. Il capo mafia si rifugiò in una stanza e Fratianni continuò a sparare verso la porta afferendo il figlio 15enne del boss colpito al petto e alla testa. L'accusa sostiene che Fratianni agì per non restituire 600.000 euro che aveva ricevuto due anni prima ad Antonello Francavilla per la realizzazione di un palazzo in Viale Giotto a Foggia. L'imprenditore si dichiara innocente e sostiene di essere vittima di una estorsione da parte dello stesso boss. Fratianni è sfuggito a sua volta lo scorso 26 giugno ad un agguato progettato da presunti esponenti del clan sinesi Francavilla che erano pronti ad ucciderlo alla periferia di Foggia. Ancora cronaca sempre a Foggia di un morto e un ferito grave. Il bilancio dell'incidente stradale è avvenuto questa mattina a lungo la strada provinciale 109 che da San Severo porta a Lucera nel Foggiano. La vittima è un sessantenne di Lucera. A quanto si apprende l'uomo era a bordo di una utilitaria che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un furgoncino a seguito dell'impatto. L'auto si è ribaltata su se stessa. La vittima è deceduta all'istante mentre il ferito è stato trasportato urgentemente nel risoccorso all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco hanno operato i sanitari del 118 che hanno fatto tutto il possibile per rianimare la vittima. Adesso ci spostiamo invece ad Andria. La Guardia di Finanza di Barletta ha eseguito un sequestro preventivo di circa 280 mila euro nei confronti di una società esercente all'attività di confezione di camice e t-shirt. Sentiamo perché. Sequestro preventivo per una somma di oltre 280 mila euro a carico di un'azienda tessile di Andria. L'operazione è stata effettuata dalla Guardia di Finanza locale sotto le direttive del Comando Provinciale di Barletta guidato dal colonnello Mercurino Mattiace. L'attività delle fiamme gialle ha permesso di individuare un mancato versamento dell'IVA confiscando le ingenti disponibilità finanziarie dell'azienda e del suo rappresentante legale. L'operazione è stata svolta in collaborazione con la Procura di Trani che ha accertato l'omissione dei pagamenti dopo una scrupolosa analisi delle componenti economiche relative all'attività commerciale confermando così la violazione delle leggi di libero mercato e libera concorrenza. Il sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza si inserisce nel contesto delle indagini preliminari che potrebbero portare all'accertamento della colpevolezza con sentenza irrevocabile. Il lavoro svolto di comune accordo con la Procura punta a sconfiggere l'evasione che affligge il territorio della BAT a tutela di un sistema economico sano e paritario per tutte le attività commerciali. E adesso la pagina politica. Chi si candida contro il PD si assumerà la responsabilità di farlo. Marco Lacarra presenta così le liste DEM alle prossime politiche di settembre alla presenza dell'indipendente Luisa Torsi. Il segretario bacchetta i consiglieri regionali sul ricorso e rassicura le federazioni locali sul rapporto con i civici. Guardate. Cioè noi abbiamo Meloni, Salvini, Capilista. Io chiedo ai pugliesi ma voi volete votare, vi lamentate del fatto che i parlamentari non siano del territorio ma volete votare chi invece verrà, prenderà i vostri voti e poi se ne andrà via a Roma senza più considerare il territorio del quale è stato eletto? Nel day after della presentazione delle liste delle politiche il segretario DEM pugliesi Marco Lacarra prova a gettare la palla nella metà campo avversaria ma bacchetta anche chi all'interno del partito fa le barricate a partire dai regionali Mennea e Amatico nel secondo che lancia il tour. Che facciamo? Quelle stesse persone però sono quelle che per esempio in regione hanno favorito l'elezione di presidenti di commissione tutti uomini quando io sollecitavo la nomina di presidenti donne. Allora mi sembra di scorgere più delle motivazioni di natura strumentale ed è curioso che naturalmente questi rilievi li muova chi non è candidato. La carra getta qua sul fuoco dei malumori delle federazioni locali come a Lecce dove vanno i conti con la capolistatura del civico, Stefanazzi alla Camera. Potevamo fare cose diverse, io penso che si sia fatta la cosa migliore in un contesto difficile. Poi se la provincia esprime il candidato dei civici è chiaro che qualche problema in più c'è. La candidatura della Capone che noi speriamo possa essere vincente mi auguro possa compensare diciamo questo vulnus. Altra storia per Massimo Cassano passato all'opposizione al quale si contesta il ruolo di DG Arpal. Quegli esponenti del mondo civico dovranno assumersi la responsabilità di una candidatura fatta contro il Partito Democratico e contro la coalizione di centro-sinistra. la scienza più scienza nella politica, più donne in politica. E questo è un elemento molto importante che si collega molto bene alla risposta, al perché. Perché io ho avuto un'opportunità, le opportunità date alle donne sono poche. Ed entra nel vivo la campagna elettorale anche in Capitanata e nella BAT. Partiamo dalla BAT con Damiani e la notte nelle liste di Forza Italia. Sentite. Tempo di strategie per le elezioni politiche del 25 settembre con Forza Italia che ha scelto i suoi rappresentanti nelle liste della BAT. Doppia designazione barlettana per i collegi plurinominali della sesta provincia pugliese. Dario Damiani, senatore uscente, sarà nuovamente candidato per uno scranno a Palazzo Madama. Per lui c'è il secondo posto nella lista Foggia, Andrea, Bari, Taranto Lecce, alle spalle di Licia Ronsulli. E per me motivo di grande orgoglio, ha dichiarato Damiani in una nota, questa nuova candidatura rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni. Candidato al Senato, ma nel collegio uninominale di Andrea, anche l'attuale sottosegretario alla giustizia, Francesco Paolo Sisto. Una candidatura anche per Marcello Lanotte, attualmente presidente del Consiglio Comunale di Barletta, che sarà in corsa per un posto alla Camera. Ottime chance per entrare tra i deputati eletti, visto il primo posto nel suo collegio plurinominale, Foggia Cerignola Andria. Quarto posto in lista invece per l'andriese Tonia Pagliaro. Movimenti in corso anche in Fratelli d'Italia, dopo l'annuncio del Bicegliese Davide Galantino. In corsa per il Senato in collegio plurinominale, anche Stella Mele, attuale consigliere comunale di Barletta, e l'andriese Mariangela Matera. Fuori dalle liste del Movimento 5 Stelle, dopo le consultazioni, l'ex consigliere comunale di Barletta, Antonio Coriolano, mentre il PD aveva già annunciato i suoi nomi per il prossimo 25 settembre. Quattro candidati dell'Abbatti in corsa, Francesco Boccia come capolista, poi Deborah Ciliento, Fabrizio Ferrante e Giovanni Vurchio. Mentre a sorpresa, nelle fila di Fratelli d'Italia, a Foggia spunta il nome della giornalista bolognese Eugenia Noroccella. Pronostici? Io sono ottimista. Al di là dei sondaggi, credo che Fratelli d'Italia abbia oggi la stima e il sostegno di tanti italiani e sono ottimista sul nostro risultato. I big nelle postazioni di capolista al proporzionale e i sette candidati negli uninominali per accogliere consensi. E questa è la strategia di Fratelli d'Italia in Puglia. Incapitanata, blindata, la candidatura dell'ex coordinatore provinciale del partito, l'avvocato foggiano Giandonato Lasalandra, è infatti capolista nel collegio plurinominale della Camera Foggia Cerignola Andria. L'imprenditrice Anna Maria Fallucchi, indicazione dell'europarlamentare Raffaele Fitto, è candidata al Senato nel collegio uninominale di Foggia. Fuori dai giochi, invece, è a sorpresa il consigliere regionale Giannicola De Leonardis. Alla Camera, nel collegio uninominale di Foggia, Fratelli d'Italia propone Eugenia Roccella. Fratelli d'Italia è pronta a portare avanti questa importante sfida che ci vedrà, secondo me, protagonisti e leader del centrodestra. Ci tengo a dare il mio grosso in bocca al lupo all'amico e l'avvocato Giandonato Lasalandra, il nostro vecchio coordinatore provinciale, appunto, storico, membro storico di questo partito. Un grosso in bocca al lupo anche Anna Maria Fallucchi, che sicuramente è indiscutibile il suo valore. Sono felice, insomma, di avere all'interno dei nostri rappresentanti una donna, un'imprenditrice. Ci tengo anche a sottolineare, diciamo, la mia stima nei confronti di Giannicola De Leonardis, che è uno degli esclusi, però è una persona che ha dimostrato attaccamento e impegno per questo partito, una persona di grande valore, una persona che comunque sia continuare a rappresentare questo territorio all'interno del Consiglio regionale. Purtroppo anche questa legge elettorale ha un po', diciamo, reso le cose difficili, perché uno dei problemi fondamentali di questa legge è probabilmente la mancanza di rappresentanza di territori. Anche il Movimento 5 Stelle, ovviamente, alla prova delle liste per le politiche. Antonella Laricchi applaude al divorzio in Sicilia con i Dem, intanto il senatore uscente Giamauro Dell'Olio lancia la sfida in Puglia, dice, meglio che nel resto d'Italia. Quindi noi andiamo avanti e ritengo che faremo anche un buon risultato, perché immagino che ci sia tutto un tantam dietro la destra avanti nei sondaggi, ma che alla fine non sarà così. Dal Movimento 5 Stelle ci credono a poche ore dal deposito delle liste, puntano sul treno del leader Giuseppe Conte Capolista a Foggia e non c'è spazio per la polemica sollevata da Antonella Laricchi, consigliere regionale, che dopo il divorzio in Sicilia da Idem, chiede che anche in Puglia si faccia lo stesso, non ora, e la linea decide Conte. E' un dibattito che in realtà c'è sempre stato, perché in pratica i pugliesi, esclusivamente gli attivisti, aspettavano un voto sulla piattaforma che non c'è mai stato, ma nel frattempo si è andato avanti. Credo che in questo momento sia una confusione in più durante la fase elettorale che creerebbe più danni che benefici, ma è una cosa che dovrà decidere Conte. La donna a Turqua dell'olio, gli uscenti capilista, obiettivo fare meglio che nel resto del paese. Calcio a mercato con questi numeri, io normalmente la soddisfazione è chiaramente quanto più alta possibile questo numero. E sono, ecco, diciamo che sarò contento se il Movimento in Puglia prenderà quei 4 o 5 punti percentuali in più del resto d'Italia, perché questo significa che in Puglia il Movimento 5 Stelle è ben radicato, e questa è una mia aspettativa. 440.000 famiglie in Puglia, pensate, a causa dei nuovi rincari previsti in autunno, potrebbero non riuscire a fare la spesa. Il balzo dell'inflazione costerà alle famiglie pugliesi oltre 900 milioni di euro in più solo per la tavola nel 2022, oltre 564 euro in più a famiglia a causa del mix esplosivo dell'aumento dei costi energetici legato alla guerra in Ucraina e al taglio dei raccolti per la siccità, mentre è già raddoppiato il numero delle famiglie in povertà relativa nella regione, secondo i dati Istat, per cui su scala regionale in Puglia l'indice di povertà relativo è passato in un anno dal 18,1% al 27,5% anche a causa dei fenomeni inflazionistici e speculativi con l'aumento dei prezzi e dei rincari delle bollette energetiche a partire da gas e luce. E adesso invece a Foggia, la nostra pagina dedicata agli eventi, sta per concludersi la terza edizione del premio letterario nazionale Fiori Blu Il gran finale è previsto per il 15 settembre con una serata evento che sarà trasmessa in esclusiva proprio sulle nostre reti Si avvia alla conclusione la terza edizione del premio letterario nazionale Fiori Blu La giuria tecnica e la giuria popolare hanno espresso le loro preferenze giovedì 15 settembre nella cornice verde dei giardini del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia si terrà l'evento finale condotto da Neri Marco Re affiancato dalla presidente e direttrice artistica del premio la giornalista Alessandra Benvenuto con la presenza del presidente della giuria tecnica Paolo Mieli In tale occasione saranno consegnati il premio I Fiori Blu giuria tecnica e i premi speciali della giuria popolare agli autori dei libri vincitori selezionati tra i sei titoli finalisti che ricordiamo essere il digiunatore di Enzo Fileno Carrabba edizione Ponte alle Grazie il lavoro del lettore di Piero Dorfless edizione Bonpiani le stanze del tempo di Piera Ventre edizione Neri Pozza Io Posso di Marco Lillo Epif edizione Feltrinelli la democrazia dei signori di Luciano Canfora edizione La Terza e la contessa di Benedetta Craveri edizione Adelphi chi avrà piacere di partecipare al Brindisi della Vittoria potrà prenotare il posto per la serata evento sul sito ufficiale del premio www.premioinfioriblu.com l'evento che sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Antenna Sud Canale 14 avrà inizio alle ore 20 con ingresso alle 19.30 tanti gli ospiti e le sorprese in serbo per il pubblico dei Fiori Blu Eccezionale ritrovamento nell'area marina protetta delle isole Tremiti da parte del laboratorio del Mare è stato individuato un esemplare di Pinarudis erano completamente scomparse da qualche anno a causa di una epidemia che ne ha causato la moria in tutto il Mediterraneo tuttavia il 21 agosto scorso durante le attività subacque è stato individuato un esemplare di Pinarudis vivo in buono stato di salute e reattivo al tocco come vedete in foto per noi spiegano gli esperti un'osservazione eccezionale che immediatamente ci ha portato ad avviare un programma di monitoraggio continuo per studiarne l'evoluzione gran parte delle attività di monitoraggio compiute negli ultimi 5 anni nel Mediterraneo si è posta una domanda ricorrente esistono davvero zone rifugio al riparo dal patogeno o in alternativa se è possibile trovare esemplari di Pinarudis Pinarudis in grado di resistere all'azione del protozoo killer le prove sperimentali accumulate fino ad oggi concludono gli esperti avevano frustrato le speranze ma una chance ora potrebbe arrivare proprio dalle isole Tremiti restiamo alle isole Tremiti saranno tre giorni di musica e natura nel ricordo di Lucio Dalla dieci anni dalla sua scomparsa a quelli in programma dal primo al 3 settembre per la quinta edizione di Tremiti Music Festival numerosi gli ospiti come annunciato dall'organizzazione che giungeranno nell'oasi di San Domino a largo del Gargano proprio nelle isole un luogo a cui Dalla era molto legato tra gli eventi in programma giovedì 1 settembre dopo le 21.30 la prima assoluta di come profondo il mare di Renzo Rubino si tratta, si legge in una nota, di un progetto realizzato per il Tremiti Music Festival e proprio per omaggiare l'artista bolognese e il suo forte legame con la nostra terra di Puglia e ancora eventi andiamo a Putignano dove torna il Karlorf Music Festival sono sei i concerti in programma si parte con l'omaggio a Ennio Morricone La grande musica del Karlorf Music Festival torna a Putignano inizia questa settimana la sedicesima edizione del Festival Internazionale di Musica Classica tra grandi firme mondiali, produzioni originali e valorizzazione dei giovani talenti del territorio non mancheranno appuntamenti con i libri, visite guidate gratuite della città e la musica al Giardino Pensile del Museo Civico si parte giovedì 25 agosto alle 20 con Borgo in Classic musica classica diffusa nel centro storico di Putignano con la direzione artistica del maestro Vito Amatulli venerdì 26 alle 19 al Giardino Pensile del Museo Civico Romanazzi Carducci torna la rassegna Libri in Giardino con Rosarianna Romano e la presentazione del libro L'Italia vista dal sud un viaggio tra ciò che resta della questione meridionale sabato 27 al Teatro Comunale si inaugura il Karlorf Music Festival sei concerti in programma ad aprirlo un omaggio a Ennio Morricone con uno spettacolo di musica e danza ispirato al film Nuovo Cinema Paradiso domenica 28 il giovane percussionista pugliese Edoardo Parente ritirerà il premio L'arte nelle tue mani le serate del 31 agosto e poi il 2, 4 e 6 settembre saranno invece dedicate alla grande musica internazionale con musicisti di caratura mondiale alle prese con grandi compositori classici sabato 28 agosto e il 3 settembre tornano le visite guidate gratuite della città delle installazioni in carta testa e della bottega del Coriandolaio la musica tornerà protagonista sabato 3 settembre con il secondo appuntamento della rassegna Melodie d'estate Angelo Branduardi con It's Tour ha aperto la settimana di eventi gratuiti a Castellana Grotte inizia così la rassegna Piazze d'estate mercoledì 24 agosto sarà la volta di Francesco Baccini Tino Savino con la sua direzione artistica sta accompagnando questo percorso di Piazze d'estate direi che dopo un mese è già tempo di tracciare un primo bilancio è stata una sfida una vera sfida perché in pochissimo tempo dovevamo mettere su un cartellone che abbracciasse un po' tutti i gusti dal punto di vista artistico dal punto di vista emozionale quindi è stata difficile ma alla fine diciamo il pubblico ha risposto benissimo e quindi ci sentiamo molto ma molto soddisfatti questa sera con Branduardi è la volta degli amanti della musica e della poesia sì abbiamo voluto un cantautore un poeta vero e proprio io a prescindere dai gusti dico che Branduardi è un maestro della musica può piacere o non può piacere perché poi il gusto è personale ma oggettivamente non si può prescindere dal riconoscere la sua maestosità nella musica e abbiamo voluto portare qui a Castellana la musica seria la prossima tappa Baccini Baccini non viene da solo ma con un quartetto d'archi quattro ragazze veramente fantastiche e quindi uno spettacolo non solo perché c'è Baccini che è un musicista internazionale conosciuto ma anche perché sta dando la possibilità a una musica di un certo stile e a Molfetta da settembre va in scena il festival Bande in Giro scopriamo di cosa si tratta al via la seconda edizione del festival nazionale delle bande da giro la città protagonista sarà Molfetta dal 6 all'11 settembre un periodo non banale anche perché in concomitanza con la festa patronale della cittadina barese in onore della Madonna dei Martiri prenderanno parte alla manifestazione i complessi bandistici pugliesi e di altre regioni che saranno i protagonisti di una kermesse musicale dedicata al mondo delle bande che ha visto già ampio successo nella prima edizione è un festival di bande che abbiamo il piacere di aprire con la nostra nuova banda Talos di Ruvo di Puglia il prossimo 6 settembre il primo concerto di questa formazione lo faremo a Ruvo di Puglia il 4 settembre nell'ambito della prossima edizione di Talos Festival e con grande piacere abbiamo accolto l'invito a partecipare ad un festival che vuole dare risalto alle bande, alle bande da giro alle formazioni musicali che portano avanti un percorso di recupero e di innovazione della tradizione musicale bandistica è un grande evento che mette in risalto le nostre tradizioni, la nostra cultura le bande sono il cuore pulsante delle nostre tradizioni siamo completamente soddisfatti di quello che è stato il nostro cartellone per quanto riguarda quest'estate e ovviamente ci sono ancora tanti eventi e speriamo ogni anno di migliorarci un evento straordinario per le nostre bande da giro per il nostro territorio e per Molfetta rivalutare quello che è le nostre bande da giro la cultura e la tradizione che esse hanno sempre rappresentato e continuano a rappresentare credo che sia un motivo di gioia, di orgoglio da parte di tutti noi Dopo 11 anni il 30 settembre l'aeroporto Gino Lisa di Foggia torna a volare si partirà alle 18.25 con arrivo a Milano Malpensa alle 20.10 poi 2, 3, 5, 7 ottobre 4 volte a settimana 5 a partire da dicembre tuttavia così come aveva dichiarato Antonio Maria Vasile presidente di aeroporti di Puglia non saranno sufficienti i voli se non saranno avviate tutte le attività commerciali che animano un aeroporto e che servono a soddisfare le esigenze dei passeggeri per sfruttare al massimo l'opportunità e coglierne i benefici servirà il gioco di squadra ne è convinta Carla Costantino segretario generale della CISL Foggia che dichiara è necessario realizzare e attuare un piano dei trasporti pubblici che assicuri i collegamenti tra la stazione di Foggia e il Gino Lisa ottimizzando e potenziando tempi e orari per garantire sia ai passeggeri ferroviari che a quelli che scendono dagli autobus all'intermodale di poter raggiungere l'aeroporto di Foggia in corrispondenza dei voli la riattivazione di questi rappresenta un'occasione importante per lo sviluppo del territorio spiega CISL a patto però e questo è l'appello del sindacato che intorno venga costruita tutta l'opera di sostegno logistico a partire dall'efficienza organizzativa a misura di utenti ecco perché da tempo conclude Costantino sollecitiamo la realizzazione di una strategia concertata tra istituzioni e corpi intermedi che ruoti intorno a un modello condiviso di turismo e di sviluppo territoriale dunque indubbiamente una grande opportunità per la provincia tanto provata di Foggia con questa notizia chiudiamo anche la nostra pagina dedicata a Bari, Labat e la Capitanata e vi ricordo che trovate notizie, aggiornamenti anche sui nostri canali social, su Facebook, YouTube e il nostro sito www.antennasud.com con questo è davvero tutto ma l'informazione prosegue con gli aggiornamenti da Brindisi, Lecce e Taranto a voi tutti un buon proseguimento rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social Grazie a tutti